Mi stavo chiedendo soltanto se tu hai idea di dove siamo e come si esce da qui perché io vorrei a un certo punto, adesso non vorrei uscire Dovremmo farcela, però ti racconto un aneddoto che ti metterà a tuo agio Ah grazie C'è un articolo di giornale che racconta che nel 1903 un francese che si era improvvisato esploratore era venuto a girare dentro questa galleria la lanterna si è rotta, è rimasto al buio ed è stato ritrovato da altri esploratori tre giorni dopo, quando ormai aveva deciso di suicidarsi sparandosi in bocca con un revolver E ce l'hai un revolver? No, quindi non corriamo rischi Allora non c'è problema Allora siamo a posto Andiamo avanti col sorriso Ok